amici nuova interessante lezione di italiano dedicata alla grammatica oggi andiamo a vedere insieme il presente progressivo che è un modo un tempo che si usa quotidianamente stavo prima leggendo appunto la sintesi della lezione e dicevo guarda come si parla normalmente poi non si scrive e in questo caso in questa lezione andiamo a scrivere ogni tanto si scrive anche ma andiamo a scrivere effettivamente come parliamo noi italiani sono linguaggi sono modi che si usano come dicevo quotidianamente e per lo più delle volte non vengono spiegati nessuna lezione e raramente vengono spiegati soprattutto nelle grammatiche questa è grammatica ma è grammatica diciamo più discorsiva più parlata il presente progressivo andiamolo a vedere perché è molto interessante perché è utile per imparare meglio l'italiano il presente progressivo è una formula temporale che si usa per riferirsi ad un evento che è in corso di svolgimento nel momento in cui si parla tutti i pomeriggi guardo un film questo è un presente normale come abbiamo studiato proprio dall'inizio dalla base della grammatica invece presente progressivo è in questo momento sto guardando un film presente progressivo appunto come possiamo vedere la seconda frase fa riferimento a qualcosa che sta succedendo in questo momento proprio mente sto parlando anche se l'uso del presente semplice in questa frase non sarebbe scorretto quindi in questo momento guardo un film ci sta è presente semplice ci sta dappertutto anche anche per il futuro abbiamo visto però è normale perché guardo è la forma indicativa del presente e ci sta bene perché è il momento presente il presente progressivo invece serve a sottolineare che l'evento si sta svolgendo proprio nel momento in cui si parla quindi in questo momento guardo un film sì ok si sa che stai guardando un film però vedete si sa che stai guardando sto già usando presente progressivo quindi se dico invece in questo momento sto guardando un film mi dà più l'idea che la persona che parla al telefono magari ha proprio davanti la televisione del computer e sta guardando questo film quindi è proprio nell'immediato in diretta quindi una visione proprio diretta che si svolge mentre si sta parlando come si forma il presente progressivo quindi come si costruisce beh è molto semplice la formazione del presente progressivo infatti è molto semplice verbo stare al presente indicativo io sto più gerundio del verbo dell'azione quindi sto preparando le valigie per il viaggio che cosa stai facendo non posso telefonare a simona adesso sta lavorando allacciate le cinture e chiudete i tavolini stiamo atterrando state organizzando qualcosa per celebrare il vostro anniversario non disturbare i ragazzi adesso stanno studiando quindi sto stai sta stiamo state stanno in tutti i modi in tutta la coniugazione del verbo stare quindi al presente il verbo progressivo è formato quindi da stare coniugato al presente indicativo e concordato con il soggetto e dal gerundio presente del verbo che esprime l'azione preparare preparando fare facendo lavorare lavorando eccetera 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 se non conoscete o non ricordate come si costruisce il gerundio vi consigliamo di rivedere il video che abbiamo girato nell'azione 359 quindi una cinquantina di lezioni fa un annetto fa all'incirca che era il gerundio ve lo vado a puntare qui 359 il gerundio così è sempre utile insomma in breve possiamo dire che il gerundio si forma aggiungendo alla radice del verbo ando per i verbi inare e ire ad esempio parlare parlando mangiare mangiando cantare cantando eccetera eccetera correre correndo e tutti gli altri con ere e dormire dormendo e tutti gli altri con ire quindi ando endo endo ci sono come sempre alcune eccezioni rappresentate dai verbi regolari come in tutte le lingue come in tutte le scienze come in tutte le arti ci sono delle eccezioni voi lo sapete ne abbiamo già parlato abbastanza e bisogna purtroppo ricordarsene a memoria quindi fare facendo bere bevendo dire dicendo trarre traendo condurre conducendo eccetera eccetera e sono ovviamente eccezioni che derivano dal latino solitamente perché poi si riforma la forma latina eccetera eccetera quindi sono influenze dalla lingua come diciamo è cresciuta la lingua italiana e anche magari influenze dettate da dalla mistura e dall'influenza di altre lingue chi lo sa il gerundio è un modello indefinito è un modo scusate indefinito cioè non cambia in base alla persona e a solo due tempi quindi bere bevendo correre correndo non esiste altro rispetto al verbo correre rispetto al verbo parlare non esiste la persona non esiste il numero eccetera eccetera a solo due tempi appunto il presente e il passato per la forma progressiva si usa il gerundio presente quindi quelli che abbiamo visto fino ad oggi adesso per lo meno in questa pagina forma progressiva al passato e al futuro abbiamo visto la forma progressiva presente adesso questa è la forma progressiva al passato e al futuro quindi prima e dopo il mio presente abbiamo iniziato la lezione parlando del presente progressivo appunto ma la forma progressiva può essere usata anche al passato e al futuro per la forma progressiva al passato si usa il verbo stare all'imperfetto stavo preparando le valigie quando mi è arrivato quel messaggio quando sono rientrato i miei genitori stavano dormendo per il futuro invece si usa il verbo stare al futuro semplice quindi il futuro quello che diciamo io mangerò giocherò dormirò eccetera eccetera il futuro semplice quando mi manderai quel messaggio io starò preparando le valigie quando tornerò a casa i miei genitori staranno dormendo eccetera eccetera quindi la coniugazione del verbo stare nel futuro semplice e ovviamente per quello che abbiamo detto prima nel passato la coniugazione all'imperfetto io stavo tu stavi egli stava eccetera eccetera all'imperfetto del verbo stare come vedremo la forma al passato futuro la forma al passato del futuro si usa soprattutto quando si vuole esprimere contemporaneità rispetto ad un'altra azione quindi io sto mangiando la torta ok questa è una forma presente diciamo di forma progressiva presente semplice se se la metto al passato io stavo mangiando una torta mi aspetto che contemporaneamente all'azione mia di mangiare la torta fosse successo qualcosa stavo mangiando la torta quando ok i miei genitori come abbiamo prima abbiamo letto stavano dormendo quando mentre sono rientrato quindi c'è sempre di solito quando parliamo di forma progressiva passata e futura c'è sempre una contemporaneità o comunque una congiunzione di una subordinata di una frase subordinata che esprime un altro verbo quindi accade qualcos'altro mentre stava succedendo quello o mentre starà succedendo quello quindi starò preparando le valigie se io dico starò preparando le valigie mi aspetto di continuare di sapere cosa starà succedendo mentre preparerò le valigie quindi starò preparando le valigie quando mi manderai quel messaggio i miei genitori staranno dormendo ok se la dico così senza nessuna diciamo frase correlata è perché ha un senso legato a qualcosa che è già stato detto ma se io dico solo i miei genitori staranno dormendo devo andare avanti devo proseguire devo dire che succederà qualcos'altro quando tornerò a casa ok quando tornerò a casa i miei genitori staranno dormendo e quindi questi due fatti questi due eventi succedono nel succederanno nel futuro i miei genitori dormiranno perché saranno magari ore che staranno dormendo e quindi continueranno a dormire ma io tornerò a casa in quel momento quindi quando abbiamo appunto l'ultimo l'ultima frase dice che quando abbiamo il passato il futuro è perché ci sono due eventi che si su si accadono allo stesso istante o più nello stesso periodo usi della forma progressiva primo primo caso come abbiamo visto la forma progressiva si riferisce a un evento in corso di svolgimento dagli esempi possiamo anche capire che l'arco di tempo nel quale l'azione si svolge può essere ristretto oppure più ampio ad esempio viene a vedere viene a vedere i bambini stanno giocando oppure sto studiando per l'esame di algebra nella prima frase l'azione di giocare si riferisce a un momento piuttosto specifico i bambini stanno giocando ora stanno giocando adesso stanno giocando per un per un breve periodo quindi mezz'ora un'ora dieci minuti quindi è un può essere immagino un pomeriggio un'ora del pomeriggio ma comunque abbastanza breve diciamo sicuramente non giocheranno per più per più ore o per più giorni questi bambini ecco faranno anche altro nella seconda invece l'azione di studiare può riferirsi a un arco di tempo più ampio generico è che uno non studia per giorni però la frase che dice sto studiando algebra in questo periodo sto studiando sto studiando per l'esame di algebra in questo periodo potrebbe essere settimane mesi giorni o comunque più ampio come periodo ma non necessariamente in questo momento perché non posso impiegare dieci minuti per studiare algebra per l'esame di domani e non posso impiegare un minuto quindi è un comunque magari probabilmente un periodo più ampio che può essere distribuito su ore o su giorni o su mesi o se è un qualcosa di più complicato magari anche di più ecco settimane eccetera eccetera anni chi lo sa comunque sia vedete che la forma può essere relativa a un periodo molto ristretto molto breve o a un periodo più ampio due la forma progressiva viene anche usata per parlare di un'azione che è iniziata nel passato e che non si è ancora conclusa perché è tuttora in fase di svolgimento quindi un qualcosa che è iniziato un evento che è iniziato e che sta continuando adesso e mentre lo sto enunciando mentre lo sto dicendo questo evento sta continuando in questa funzione di solito la forma progressiva è accompagnata da un verbo temporale come ancora tuttora tutt'oggi eccetera eccetera poi potete aggiungerne mi sono iscritto all'università anni fa e la sto ancora frequentando quindi io sto frequentando l'università ed è un'azione che diciamo si and va a va a continuare da anni fa perché mi sono iscritto all'università anni fa quindi un evento che è successo nel passato anni fa abbastanza passato che si sta proseguendo anche adesso la sto ancora frequentando ho deciso non ho deciso dove andare domenica ci sto ancora pensando è probabile che saranno alcuni giorni che sto pensando dove andare domenica e ci sto ancora pensando quindi è un evento che arriverà la domenica e sto pensando dove andare il tennis mi piace fin da quando ero bambino lo sto tuttora praticando quindi è probabile che abbia iniziato a praticare a giocare a tennis quando ero bambino quando già mi piaceva e lo sto tuttora praticando stanno ancora cercando di risolvere il loro problema probabilmente c'era un problema grave che è accaduto alcuni giorni fa o alcune settimane fa stanno ancora cercando di risolvere il loro problema è un tema di cui si sta discutendo da molti anni quindi è un argomento importante che da molti anni appunto è sulla sulla cresta diciamo dell'onda e si sta discutendo e quindi si sta parlando di questo tema di questo argomento da molti anni terzo caso infine soprattutto nella forma passata e futura la forma progressiva viene usata per esprimere contemporaneità rispetto ad un'altra azione l'abbiamo visto prima ma lo ripetiamo perché è sempre utile si trova quindi di solito unita a un'altra frase a cui è collegata da un'espressione temporale come mentre durante quando eccetera quando è arrivato il mio amico io stavo giocando al computer quindi queste azioni vedete che accadono allo stesso tempo io probabilmente stavo già giocando al computer e ho continuato ma quando è arrivato lui è arrivato nel momento periodo in cui io stavo giocando al computer il temporale è scoppiato proprio mentre stavo tornando a casa quindi è scoppiato il temporale che un evento netto preciso io stavo tornando a casa è scoppiato il temporale probabilmente ti sei anche bagnato quando arriverò a roma domani notte voi starete già dormendo durante la manifestazione noi staremo guardando il telegiornale quindi fatti in diretta che vengono ripresi dal telegiornale noi staremo guardando il telegiornale questi sono ovviamente frasi al passato e frasi al futuro appunto per far capire che quando si usa passato il futuro c'è questa contemporaneità rispetto a un'altra azione con mentre durante quando e altri avverbi temporali posizione dei pronomi come sempre quando si è in presenza di una forma verbale composta bisogna fare attenzione alla posizione dei pronomi complemento nella forma progressiva il pronome atono diretto indiretto può trovarsi prima del verbo stare situazione più frequente oppure dopo il gerundio è attaccato adesso esempio prima del verbo stare le sta parlando in questo momento oppure dopo il gerundio attaccato sta parlando le in questo momento è identico magari espressivamente dipende dal contesto dalla situazione in cui si sta parlando si sta scrivendo però il risultato non cambia quindi le sta parlando in questo momento sta parlando le in questo momento alle volte più scorrevole dire sta parlando le se uno si esprime bene in italiano ovviamente gli è semplice dire parlando le che magari è una frase un po contorta le sta parlando in questo momento diciamo che un po più diciamo formale a mia mia visione però probabilmente magari sbaglio anche altro caso altro esempio mi sto innamorando di te sto innamorandomi di te stessa cosa due frasi in due modi diversi prima abbiamo il pronome atono prima del verbo stare e oppure dopo il gerundio è attaccato il gerundio innamorandomi il pronome tonico invece con o senza preposizione deve sempre seguire il gerundio quindi sto parlando con lei quindi queste con preposizione sto parlando con lei sto parlando di lei proprio adesso quindi non posso dire sto parlando le proprio adesso perché il caso caso lì sarà beato non sarebbe tonico nel secondo caso quando siamo senza preposizione stiamo seguendo te ovviamente stiamo seguendo ti sarà beato non stiamo seguendo te va sempre dopo non posso dire te stiamo seguendo non sarebbe italiano sarebbe marziano quindi questo diciamo che è l'utilizzo dei pronomi e come si devono posizionare all'interno diciamo della 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 forma progressiva che abbiamo appena studiato amici spero che la lezione mi sia piaciuta come sempre un like è un seguimi sul canale iscrivetevi a tutti quelli che ormai ci stanno commentando le lezioni che mi dicono bravo bravo e sono contento e rispondiamo ai commenti di tutti gli amici che ci vanno a scrivere un messaggio io dico sempre iscrivetevi al canale perché così tutti i sabati metà pomeriggio circa tardo pomeriggio riceverete ora italiana perlomeno riceverete una notifica dove c'è una nuova lezione di italiano per tutti 412 lezioni significa che ci sono 411 lezioni da vedere prima di questa siamo su di social www.itapertutti non vado più a spiegare altro iscrivetevi a telegram perché ci sono sempre tante anche altri social perché ci sono sempre tante altre belle notizie belle slide da vedere ci vediamo la prossima settimana con una nuova lezione di italiano per tutti ciao ciao